Siamo qui con Rocco Nicolacci, attaccante dei giovi e decisivo nella sfida di oggi vinta dalla sua squadra contro Agnus San Lorenzo. È stata una partita tiratissima, un ping pong di reti, alla fine siete riusciti a spuntarla, importantissimi i primi tre punti per voi in campionato. Sì, è stata una partita un po' al ping pong, come hai detto te, gol loro, gol nostro, vantaggio nostro, pareggio loro, diciamo che oggi abbiamo messo il carattere, dovevamo vincere a tutti i costi, servivano i tre punti per dare morale alla squadra e niente, ha vinto alla fine il carattere, ce l'abbiamo messo a tutte e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Da oggi inizia il nostro campionato, speriamo che continuiamo così. Insomma, i giovi finalmente si sbloccano in classifica, come hai visto l'impatto con la nuova categoria? L'impatto con la nuova categoria non è stato facile perché abbiamo anche tantissima gente nuova e quindi dobbiamo ancora integrare tanta gente, però è difficile, è un campionato molto difficile, non è facile, ci proveremo, vediamo dove arriviamo. Hai fatto una bella doppietta oggi, hai deciso la gara, che bottino di reti ti prefigi di raggiungere per la fine della stagione? Guardo partita dove partita e vediamo cosa facciamo, cosa faremo, vedremo. Stasera festeggi? No, no, domani si lavora. Grazie mille, buon prossimo di stagione. Grazie a voi, ciao.